La città di Torino è molto molto orgogliosa di poter ospitare Erasmus Day Live, in particolare perché nel 2010 la città è stata nominata la capitale europea dei giovani da parte del Fondo Europeo dei Giovani e quindi in virtù di questo importante riconoscimento ci saranno un anno di eventi, di progetti, di attività per i giovani e il fatto che essere capitale europea ci impone di cercare di essere la loro dimensione europea, di fare progetti che attirino ragazzi dall'estero e che mandino ragazzi torinesi a conoscere altri ragazzi e a vedere come funziona il resto d'Europa e un progetto come Erasmus Day Live proprio riesce a tenere insieme il livello della partecipazione giovanile con il livello europeo, col fatto di avere un interscambio tra ragazzi torinesi e ragazzi del resto d'Europa, per cui anche per questo motivo è uno dei progetti più importanti che c'è dentro al programma di Torino 2010 capitale europeo dei giovani e noi ci auguriamo che questo come altri progetti importanti possano diventare progetti che seguono i capitali europei, che quindi dopo Torino arrivano alla versa nel 2011 e avanti in giro per l'Europa negli anni a venire.